8.000 di arche! Arche! Cura! E' più duro! No, la smetti di andare indietro? No, sti guardia sono fastidiosi, eh? Ma almeno l'abbiamo bloccato. Ah, bestia! Guardian cage now open. Ah, no, ancora dobbiamo killarne un botto, Chip. Ma che anzo si fa l'arco? Ma che ne so, signor Cippolo. Ma non si fa così l'arco? Ma l'arco, Chip... Come, non sa craftare l'arco? Io, Chip, arrivo! Oh, ma l'arco si fa così! Ah, senti, dammi le robe, dammi le robe, lo crafto io. Oh, guardi! Non si può craftare l'arco. Perfetto. Mi dia le frecce, per favore. No, io lo voglio usare. No, dai, fammelo usare a me. No, io, io... Eh, no, dai, scusa, craftare l'altro, craftare l'altro. Eh, da me divanti. Eh, non ne ho. Li ho messi tutti nella cesta. Ah, fanculo. Vabbè, te, te, quante frecce hai preso? 35. Madonna, 35 frecce, madonna. Eh... Vai, ara, ara stitrici qua, ara lì, ara lì! Sì, 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 subito, subito. Dove sono? Vai. Però beccali. Se si buttano nella lava, droppano diamanti? Aspetta. Vi vedo che se muoiono nella lava... No, se muoiono nella lava, non droppano diamanti. Però si stanno ammazzando da soli. Eh, grazie. Ho capito, però. Ho capito, però. Oh! Non mi faccio danno. Non mi faccio danno. Minchia, vuoi vedere che non muoiono? Allora usa le frecce per i cast. Madonna, madonna. Porta. Porta. E me fai uscire, però. Madonna. Non so quanto sei lento, però. Madonna, madonna. Guarda in quanto mi mirano. Bastardo, faccia di merda. Eh, levati, levati dal caucaso. Oh, c'è uno che l'ho cegato, Pepo. Vado, oddio, hai fatto benissimo. Oh, Chip è disabilitato. Veloce. Vai a fare... Vai a fare subito, Chip. Vai a fare subito il blocco di diamante, Chip. Sì, sì, lo posso fare, lo posso fare. Lo posso andare a fare. Pepo, lo vada a fare immediatamente. Pepo. Eh, se spicci, se spicci, signor Chip. Se spicci, si spicci. Io nel momento ne avevo ancora. È qua. Perfetto, signor... Signor Pepo. Eh, mi dica, signor Chip. Lo sette di diamanti. Me ne mancano due. Me ne mancano due, Pepo. Per fare cosa? Per fare questo cazzo di blocco di diamante. E ari due. Ma scusa, con nove diamanti l'hai fatto il blocco? Eh, con nove, ce ne ho otto. Nove. Ah, ok. Nove, posso morto. No, no, no. Vomitali, vomitali. Vomitali, da lì a me. Tieni, 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 tieni. Ok, senta. Fammi andare, fammi andare, fammi andare, fammi andare. Per non morire. Per non morire. No, 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 no. Suka, suka, suka. Signor Chip, ho il blocco di diamante, signor Chip. Ok. L'ha fatto? Signor Chip, sì, ho il blocco. Ora non so, però, se muoio lo perdo. Non lo so questo. Eh, certo. Allora, se muoio lo perdiamo? Eh, dai, ti copro io. Vai, 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 vai. Ti faccio spazio, ti faccio spazio, vai, via, via, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Liberiamo gli scheletri e farmi... Eh, brava, guarda lì, tantissimo. Sì, 30 livelli di Chip, lo. 35? Chip. Quanti livelli hai? Sì, sì, andiamo in cento. 35 ce n'ho. Vai, 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 allora, metti, io metto la spada e poi metto questi. Boom. Chip, con tracolpo due, anatema quattro, mamma mia. Eh... Non so che cazzo faccia anatema, ma va bene. Sono back e switcher. Allora, che cosa? Eh? Cosa ti ho dato? Mi ha dato con back e switcher. Ah, ok. Ok, Chip, facciamo gli scheletri. Vieni qua, allora, gli scheletri sono... Ok, ho tirato. Grandissimo. Vai, andiamo, Chip, lo. Vai, farmiamo diamanti. Proprio, li dobbiamo farmare tantissimo. Beh, mamma mia, scheletri di me. Eh, vabbè, guarda qua come shottiamo. Sì, vabbè, dai. Eh, dai. Eh, siamo troppo forti. Eh, manchiamo, fanno un danno incredibile, Chip. No, no, fanno un cazzo. Madonna, a me levano tre cuori a botta. Ma che cazzo dici? A me non metto a metà niente. Ok. Hai ragione, non levano un cazzo. Ah, è giusto. E quando ti colpiscono in 18 contemporaneamente che fanno danno. Madonna, guarda qua. No, aspetta, ancora no, ancora no, ancora no. Dobbiamo fare qualche due testate, signor Chip. Perché dobbiamo fare qualche cosa. Eh, fai, fai. Fai ti ho detto, fermiamo... Chiamati, mandiamo. Aiuto, aiuto, aiuto. Aiuto, aiuto. Aiuto, quanto fare male, oh. Eh, la spara del diamante, Chip, la mica, fa un donno. Attento, ok. Che quando ti guardo, tipo, guardo sotto. Mamma mia. Bravo, bravo, fai bene, fai bene. Minchia, i cosi fanno casino. Madonna. Eh, sì, mi... Chi sono? I blaze. I blaze. Ma l'abbiamo sbloccato? Ah, sì, l'abbiamo sbloccato, Chip. No, i blaze no. Che abbiamo risultato. Tanti diamanti... Vadi, vadi. Di un dato farmo. Aspetta, sì, vai a farmi, farmi. Aspetta, io mi mazzo sto scheletro qua a faccia di cazzo. Palla, ti do le palle. Quanti ce ne abbiamo? Non lo so. Controlli, controlli, Pepo. Signor Pepo. Signor Pepo. Uno stack. Signor Chip, continui a farmare. Ne ho uno stack e cinque. No, 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 aspetta, Chip, c'è uno scheletro che mi spara, Chip. Mazzalo. Eh, no, è stato a te. Ok, madonna, dieci, undici, dodici diamanti, tredici, quattordici, quindici, sedici. Sto formando. Sette. Ti piace, eh? Ti piace come sto formando? Madonna, da morire, Chip, mi piace. Aspetta un attimo. Eh, ti piace, eh? Ti piace, ti piace. Madonna. Allora, Chip, vado a fare. Allora, continuiamo a farmare perché tutti questi diamanti ci serviranno. Li ho messi nella cesta. Cioè, aspetta, le vengo a dare una mano. Cioè, Chip, arrivo. Arrivo. Così non si diverte solo lei. Eh, grazie. Che tanto colpa, scusa. Scusami, Chip, colpa mia. Ah, 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 ah. Scusami, è che tu scusa. Scusa, ma ti chiamo amore. Cosa ti chiamo amore? Amore. Amore, amore. Aiuto. Mamma mia. Scheletri di merda. Dai. Morite. Vai, vai, vai. Mori brutalmente. Mamma mia. Pietro. Mamma mia, mamma mia. Il problema sarà poi a Rare Blades. Quindi, mi sa che ci dobbiamo fare una bella armatura, Ciccolo. È bella armatura, è inchantata. Ci prendieriamo tantissimo. Dai! Che repate. Bostardi. Oh, per me, secondo me, andrebbe bene, Pepò. Sì, sì. Cioè, a voglia. Dobbiamo, vedi che dobbiamo, vedi che dobbiamo incentare, servono tre diamanti a testa per ogni, per ogni incento. Fai tre per otto, ventiquattro. Beh, sì, in effetti. Perché ogni, perché diamanti? Perché servono i lapislappoli. Eh, vabbè, ci sono altri due lapislappoli. Ok. Ciccolo, hai fatto l'incente, quello da tre o quello da uno, scusami? Da tre. Ah, appunto. E morite, pezzi di merda! Dai, dai, fatto, fatto. A posto, va bene, Ciccolo. Pepò, tutto a posto, dai. Vai, vado a prendere. Eh, anzi, dobbiamo fare pure il diamante, Pepò. Ok, 61 diamanti. Sì, sì, 62. Che continua ad ararli tu, così, nel mentre... Vai, faccio io. Allora, continua ad ararli tu, approfittiamone. Allora, facciamo il blocco di diamante. Perfetto. Ah, ya! Ma che se è stronzo? Eh, sono stronzi, Cip, sono stronzi, sono stronzi. Lasci fare, lasci fare che sono stronzi. Allora, arrivo, signor Cip, col blocco in mano. Ok, aspetta, questi diamanti me li levo dall'inventario perché se muoio... Ok? Avvivo! 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 Ed eccoci qua! Boom! Aratti! Ok, CiroCip, Ari, quel cazzo di coso. Aspetta, le vomito le frecce. Vadi! Grandissimo, Cip, 32 livelli abbiamo. Allora... Aspetta, prendiamo pure questi diamanti qua. Quanti sono? Quanti sono? 15 diamanti. Sono le ultime 15 chili che hai fatto prima che io prendessi. Ottimi, CiroCip. Allora... A me mi servirebbe... Riparare tutta l'armatura perché sono tutta rotta. Ah, io pure, mica ho perso tutto nell'armatura. Vabbè, CiroCip, teniamola fino a quando... Lei cosa se ne serve? Io mi devo craftare solo un elmo. Che l'ho preso. Eh, eh. A me mi servirebbe anche una spada armatura. Io la spada ce l'ho ancora a metà, eh. Eh, tu. Lo posso accentare? Aspetta, vuoi provare una cosa? Aspetta. Ah, no, a metà sì, a metà sì. Ce l'ho pure io. Allora. E passi anche un po' di dappi slazzo, young me. Sì, sì. Grazie. Io ne vomito sei. Ok. Io ne vomito a posto. E mi servirebbe, Pepo, anche un po' di diamanti. Subito. Dai. Cazzo l'ambrola, CiroCip. Non si incenti l'armatura, eh. Perché? Perché, perché... Aspetta, ma come si ripara... Ah, la possiamo riparare. Eh, appunto. Appunto, la possiamo riparare. Mi passi un po' di diamanti, per favore. E quanti diamanti servono per ripararla, scusa? Eh, non lo so. Controlla. Guarda. Abbasso me l'entrante un po'. Dai. Dai qua. Tenga, tenga, tenga. Visto che è bravo. Oh, ma bravo. Deve mettere i diamanti. In che posto? No, aspetta, lo facciamo. Due. Ok. Eh, visto che è bravo, CiroCip. Siamo bravissimi, Pepo. Pepo. Siamo veramente bravi. CiroCip, qua, le sono... Ok, aspetta. Oh, adesso mi... Ok, incentrati l'armatura. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Il corpetto. Perché quello da Trento non me lo fa fare? Ah. Perché ci devi mettere... Ah, dobbiamo avere trenta livelli. Anche se comunque ne consuma. Vabbè, io faccio questo, sti cazzi. Uuuuh. Perfetto, Pepo. Perfetto. Oh. Unbreaking 2. No. Eh, no. Invece te va bene a te, Pepo. Vabbè, comunque, allora... Ti va bene perché fra un po' andiamo contro i Blaze. Eh, sì, no, lo so che è quello là, lo so. Dai, andiamo. Andiamo, Pepo. Vai, dai, CiroCip. CiroCip, dai, 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 dai. Mamma mia, CiroCip. Ne mancano due, oh. Sazzi di merda. Come? Ne mancano due. Eh, facciamo gli spider. Spider. Vai. Vai. Ecco qui, la spada. Madonna, madonna. Ecco, lei comincia a frizzare tutto. Alla fine. Oh, mamma mia, che bella questa arena, CiroCip. Vai, CiroCip. Sì, vabbè, questi qua volano. Vabbè, un colpo è morto. No, due, CiroCip, no, non. Madonna, ma fanno un danno incredibile. Sì, abbastanza. Madonna, sto veleno fastidioso. Abbastanza, fanno male abbastanza. Madonna, è più d'altro il veleno, quello che ti fotte. Ecco, bravo, mettiamoci qua e arriviamo lì tutti. Ok, ok, Pepo, posso andare lì. Disabilitare? Eh, no, 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 craftiamo un poco, cioè. Sì, il cazzo. Eh, no, sì, ne fatti, fai un bel cubo. Sì, no, fai un bel cubo. No, 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 no. Ok, meno male. Te l'ho buttato i diamanti, sì, spero. Ma non lo so, quanti ne avevi, spero? 33. No, non li hai buttati, CiroCipolo. Ah! Cazzarola. Vabbè, dai, fottitene. Aspetta. Valla a disabilitare lo spawn Adesso si No adesso farlo No 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 che farmiamo Chiedo scusa va bene Non voglio farmare più Mi servirebbe I diamanti Sono 5 No quelli li ho presi Ah Ok 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 Passa intanto il motorino Ciao Ciao motorino salve Madonna con tutto anno fai Ok perfetto Sto ritornando eh pepo Sì 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 vai io ho mezzo cuore Le ha posate i diamanti Ritorno indietro il poso i diamanti Ok Mannaggia Vaffanculo Sì ho mezzo cuore Mezzo cuore Vomitano tantissimo Vomitano Ho entrato Sì 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 Ma donna cip Madonna cip Cosa stiamo facendo Bravara col blaze di merda Aspetta che vado a prendere si chiama Nice Stiamo recando Stiamo recando Stiamo recando Mi dica mi dica Eh io c'ho due cubi di diamanti Mi bastano come sono Vabbè se muoio pazienza va per i motori ci diamanti Vabbè ma sti cazzi Dai 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 sti cazzi Mi manca uno solo E poi E' finita Madonna Aspetta un attimo Eh li dobbiamo amare Tantissimo i blaze Aspetta Aspetta Andiamo a fare L'arco Venga Venga facciamo l'arco No che l'arco No cip Aspadate Con l'arco non gli levi un cazzo I blaze Cazzo Eh no non gli levi nulla I blaze con l'arco Perciò andiamo Aperto Sì cip Aperto Eh sì cip Per forza Madonna Madonna Eh vabbè Che cip Va di Eh io mi metto nel loro spawn Andiamo a muore Prima o poi Eh Eh Ahia Ahia Fanno male Eh lo so cip Fanno malissimo Mortissimo Due morti Due morti Mamma mia Madonna 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 Tre morti Schiappeppo è stato carbonito Madonna come l'hai tirato via Vai 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 cip Morto Morto Vai morti Bastardi Morite Morite Hai scappato fuori il coso No ancora no Ma tu la inchai il coso Sì io ce l'ho il blocco Eh ottimo 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 Morite Alla cip Ah l'hai sbettato Cip Ci sei sopra Sì 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 Cazzo Cip Madonna Il giallo cipolo Eh vabbè io se abbiamo vinto Sono caduto Aspetta un attimo Vabbè non muoio C'ho la potrezione da fuoco Cip Aspetta che un attimo Che mi spengo Aspetti un attimo Che mi spengo Perfetto Sì mi sto spendendo Signor cip Mi dica Ce l'abbiamo fatta Signor cip Ce l'abbiamo Butti dentro questo cazzo di lana Butti dentro questa cazzo di lana Boom Sta analizzando Sta analizzando l'item Adesso voglio vedere se cambia Eh guarda Guarda i colori Guarda se cambia il colore No adesso Ah sì Wow Che fia Pazzesca Bene ragazzi Noi vi salutiamo Spero che questi video Vi siano stati Di vostro Accredimento Io vi invito Sempre Mi piace Iscrivervi al canale Se avete ancora fatto Passate pure sulla pagina facebook E che dire ragazzi Basta Treteci qua nei commenti Se vi sta piacendo questa serie E mi raccomando Spolliciate Condividete E al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Bellissima l'arena GG Fate un'altra Ciao ciao 19 Ok è uscito Uscito Aiutami Aiutami Arrivo Arrivo Ciao tu Arrivo Ah Guarda che cosa sono Io c'ho ventilelli Io c'ho ventilelli Sio chip